No, lo si stringe... No, io se... Io già sei a fare il video, eh? Lo so, io l'ho fatto... No, aspettiamo che poi ci dirigiamo... Ritorniamo, eh? Ritorniamo, ritorniamo! Wow! Wow! No, io mi vado tutto! Wow! 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 Eh? Wow! Guarda lo che città non pare! Wow! 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 Grazie a tutti Perché non ci porta sotto? Grazie a tutti 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 Grazie a tutti